Prima seduta per il Consiglio di Amministrazione di Nuova Banca Etruria e degli altri tre istituti nati dal decreto salvabanche, ovvero Cari Chieti, Cari Ferrara e Banca Marche. I CDA delle cosiddette Good Bank hanno analizzato le delibere necessarie per attivare la piena attività dei nuovi istituti. In una nota ufficiale si mette in evidenza come sia stata messa massima attenzione sulle famiglie e sulle piccole imprese, promuovendo l'azione sui territori di tradizionale insediamento e facendo piena leva sull'eccellente solidità patrimoniale di cui le nuove banche dispongono. Tra le altre cose è stato accertato che in linea con la direttiva europea, Beilin, e con la norma italiana di recepimento, le nuove banche non sono titolate ad attivare nuove azioni di responsabilità e al contempo non possono essere oggetto di azioni da parte dei precedenti azionisti ed obbligazionisti subordinati. I Consigli di Amministrazione hanno infine voluto esprimere profonda riconoscenza ai 6.000 dipendenti delle nuove banche per l'energia e la passione profusi verso l'azienda e verso la clientela in questa impegnativa fase di avvio. Intanto il comitato che riunisce i risparmiatori vittime del salvabanche chiede una soluzione soddisfacente e definitiva per tutti i risparmiatori coinvolti, nessuno escluso, e minaccia altrimenti una serie di azioni tra cui la chiusura immediata dei conti, la vendita di tutti i prodotti di investimento ancora attivi e una serie di azioni legali, collettive e individuali, sia civili che penali.